ciao a tutti allora sono con la mia mascherina perché sto entrando al dm con i miei fazzolettini imbevuti farò praticamente pulirò il carrello vi porto con me al dm perché mi avete detto che vi piacciono i blog allora io vi porto al dm poi andiamo alla casa andiamo alla casa perché devo fare alcune cose adesso adesso vi entriamo al dm di giro così vi faccio vedere un po di cose allora parlo piano perché c'è un sacco di gente quindi non vorrei disturbare allora questa è la sezione shampoo di dm e volevo prendere la maschera latte che era in offerta ecco qua quale prendo prenderò questa mandorla e questa miele perché questo per me è il non plus ultra siccome in offerta la prendo poi dovevo prendere i sacchi dovevo prendere i sacchi qua c'è tutta la zona maschera maschera e compagnia tra l'altro chiara mi ha regalato due maschere bellissime che farò al più presto e dovevo prendere questo non mi interessa dovevo prendere dovevo prendere i i rasoi che io uso questi qua da un euro perché non ok poi cosa devo prendere qua c'è tutta la zona delle tre io odio fare i vlog per questo motivo perché la gente io giro parlo cellulare mi guarda strano qua c'è tutta la zona dei solari ma sono a posto con i solari detergente male sono a posto devo prendere ecco qua il detergente intimo quale prendo però mi sa che non è qui credo allora qua c'è tutta la zona bio questa è la zona bio del dm tra l'altro sono arrivate tantissime cose nuove ma io non prendo nulla perché sono o ultra ho già un sacco di roba dovevo prendere il detergente intimo ma non è qui si vede che sarà nella zona detergenti intimi il reparto bio make up è un po' poco fornito qua c'è tutto il reparto non bio ebbene ho comprato la spesa e poi vi faccio vedere cosa ho preso ciao allora eccomi sono appena uscita dal dm da lidl e da lidl e da lidl e da aldi per me è lidl tutto lidl perdonatevi se ho dovuto interrompere ma purtroppo a me fa un'impressione infernale fare il vlog in mezzo alla gente quindi preferisco poi farvi vedere cosa ho preso al dm intanto adesso vado ad abricoman devo andare a prendere alcune cose per la pulizia del giardino e appena arriviamo a casa vi faccio il video vi faccio vedere com'è andata la pulizia di ieri mattina ok rieccomi allora questa è la situazione del giardino appena potato appena diciamo tolta l'erba ovviamente l'erba qui è molto secca e andrebbe sistemata perché ovviamente per tanto tempo non si è risaminato e quindi qui dietro è stato fatto tutto manca l'ultimo pezzo che è dall'altra parte e lì questo qui è stato girato tutto e poi da questa parte si deve ancora fare quindi domenica faremo in questa parte qua e altre cose che dovevamo fare nel frattempo ci sono degli uccelli giganteschi che ogni tanto volano via dagli alberi e mi fanno prendere i collassi quindi questa è dall'altra parte benissimo adesso devo fare delle cose devo fare delle cose qui in casa poi mi metto in macchina e appena arrivo a casa vi faccio vedere cosa ho preso il DM rieccomi scusate ragazzi ma ho avuto mille mila cose da fare sono le quattro passate sono sudata fino all'osso infatti mi vedete in canottiera cosa che difficilmente io faccio di stare in canottiera perché mi da fastidio l'aria condizionata sulle spalle però è così allora sono come potete potuto vedere sono stata a casa nuovamente perché mi vedrete spesso lì se vi fa piacere vedere questi vlog vari ed eventuali io andrò spesso a casa quindi se vi fa piacere vi farò spesso questi vlog abbiamo potato una parte dell'erba e potato alcune piante non si dice potato dell'erba abbiamo fatto la rasatura tra l'altro sono macchiata non so di cosa vabbè tanto mi devo andare a struccare credo che sia mascara perché ho sudato non avevo il mascara waterproof lasciamo perdere anzi il trucco da stamattina alle 10 è il retto e dicevo sono andata a prendere alcune cose da una specie di brico center questi posti che vendono cose per il bricolage a prendere il tubo per l'acqua insomma un sacco di cose e dal DM avete visto il pezzetto però io purtroppo non ho potuto continuare nel senso che a me fare vlog in mezzo alla gente cioè se sono a casa sono da sola parlo da sola al cellulare non me ne può fregare di meno ma in mezzo alla gente mi da fastidio ecco ve l'ho spiegato allora dicevo al DM alla fine ho preso queste qua in carta riciclata le salviettine cosmetiche in carta riciclata che sono nuove per me la carta riciclata è molto importante e sono costate aspettate perché ci sono anche le cose che ho lasciato a casa di pulizia quindi aspettate ecco qua 1 euro e 29 che poi costano tanto quanto quelle normali poi ho preso queste qua che mi tengo in borsa che sono le salviette igienizzanti per le mani e per il carrello soprattutto io le uso per disinfettare i carrelli poi ho preso come avete visto all'inizio del video quando sono fatto quel pezzettino di vlog gli ultra dolce garnier allora le salviette costano 1 euro e 99 queste qua sono antibatteriche e poi l'ultra dolce 3 euro e 49 invece di 5 qualcosa questo ne ho presi due ho preso a mandorla e miele e miele questi qua per me sono la vita avevo l'ultimo a metà quello alla mandorla no è all'acero che è quello che mi piace meno alla fine quindi li ho presi poi ho preso 1 euro i rasoi anzi in sicilia si e poi ho preso siccome mi è finito il contorno occhi da giorno che utilizzo perché è quello di bio et carrube io lo uso solo la sera che tra l'altro sta anche finendo perché se avete visto era bello scavato allora ho preso questo qua di dermolab siccome mi piace l'idea dei semi d'uva quindi della vitis vinifera ho preso questo che è e ve lo dico si è si 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 formula certificata ok cosa dunque adatto anche a pelli sensibili crema specifica per pelle delicata del contorno occhi io ce l'ho super delicatissima riduce l'aspetto di borse e occhiaie formula nutriente con olio di oliva biologica con la proprietà antirughe i suoi antiossidanti ed emolienti donano alla pelle un effetto levigato con estratto di uva biologica elasticizzante nutriente arricchita con ingredienti quali vitamina E vitamina A che idratano e rivitalizzano la pelle combattendo i segni dell'invecchiamento io la zona del contorno occhi non ce l'ho particolarmente segnata quindi ancora riesco un po' e siccome mi piace moltissimo l'effetto che ha la vitis vinifera sul mio incarnato sulla mia pelle ho deciso di prendere il contorno occhi visto che ho finito quello giorno che utilizzavo che era uno della Cien credo sì uno della Cien Nature quello alla l'ho buttato stamattina quello alla al melograno niente di che infine l'ultima questo è costato 11 euro 98% di origine naturale ovviamente sapete bene che le cose che compro io sono abbastanza e poi ho preso un'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo e ho deciso di prenderlo allora se voi sapete mi conosciate un minimo sapete bene che io sono fissatissima col miele il miele il miele è preziosissimo nella skin care sia del viso che del corpo che dei capelli perché il miele è uno strumento prezioso perché è ricco di antiossidanti schiarente purificante nutriente ha una serie di poteri infiniti io lo uso tantissimo nella skin care lo uso per il viso per fare le maschere lo uso per i capelli lo uso per tutto il miele per me è fondamentale allora ho visto che la forsan che io conosco bene che ho utilizzato negli anni ha studiato questo qui è un siero anti età alla pappa reale e la cosa bella di questo siero è che gli ingredienti c'è la pappa reale è in seconda analisi in inci quindi altissima in più c'è macrospore di pappa reale pappa reale acacia senegal gum che è la gomma non mi viene in questo momento comunque dei semi di acacia viene estratta questa sostanza dei semi di acacia poi beta carotene il beta carotene è fondamentale per la pelle tocco ferolo poi c'è raule glucosinato acido vitamina c e poi c'è l'acido salicilico l'acido salicilico voi sapete bene che serve è un derivato della dell'aspirina ecco scusate praticamente l'aspirina viene presa dall'acido e l'acido salicilico l'acido salicilico è un antinfiammatorio quindi antinfiammatorio restringe i pori toglie quindi tutte queste le infiammazioni della pelle quindi la l'arrossamento insomma l'acido salicilico ovviamente ragazzi mi raccomando se siete allergici all'acido salicilico io conosco un sacco di gente che è allergica alla vitamina c e derivati alla vitamina c scusatemi all'acido salicilico e aspirina e derivati non lo utilizzate perché rischiate di avere delle reazioni allergiche pappa reale nutrienti e antietà io come sapete bene io cerco sempre i sieri e le cose da poter utilizzare questo è costato 10 euro ok allora sapete benissimo voi che io cerco sempre nuove novità da provare da dirvi come sono e la mia vocazione ok ultima cosa volevo fare un discorso un po' non polemico perché fondamentalmente questa cosa io l'ho detta più volte non è la prima volta che lo dico però lo ribadisco nuovamente quando una persona si iscrive al mio canale io la ringrazio sempre intanto perché mi sembra giusto ringraziare una persona che si iscrive al mio canale io non punto la pistola alla tempia a nessuno nel mio canale non sentirete mai dire ripetere a manetta iscrivetevi 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 perché io forse è un errore che faccio ma non mi importa io penso che una persona si debba iscrivere quando trova il canale a fine a sé quindi alle propri gusti a quello che volete io non mi iscrivo perché devo ricambiare un'iscrizione perché non funziona così per me se voi iscrivete al mio canale voi lo fate perché trovate i miei contenuti interessanti i miei scleri interessanti vi divertite vi fa piacere trovate spunto quello che vi pare però io non voglio sentire più leggere nei commenti iscritto ricambi perché io non ricambio niente ve l'ho sempre detto vi ho sempre detto che io non mi iscrivo ai canali per ricambiare le iscrizioni al mio no perché perché lo trovo assurdo che io mi iscrivo a migliori allora dovrei iscrivere a ogni persona a cui sono iscritta mi sono iscritta al tuo canale ricambi che senso ha non ha senso ragazzi non ha senso io mi iscrivo laddove trovo interessante il canale i contenuti e mi fa piacere che vi iscriviate al mio canale ci mancherebbe altro ma io non ricambio perché voi vi siete iscritti se avete un canale io non ricambio perché voi vi siete iscritti al mio io ricambio qualora il vostro canale mi interessa quindi iscritto ricambi da me non funziona ed è così da anni e ve l'ho sempre detto ve l'ho sempre detto io mi iscrivo ai canali quando mi interessano e molto spesso mi disiscrivo da molti canali perché per esempio io ero iscritta a moltissimi canali tipo Giovanni Zummo prima del botto prima del casini che ha avuto poi smesso di fare video io ero iscritta al suo canale poi ho visto delle cose che non mi piacevano e mi sono disiscritta ero iscritta a migliaia di canali e io dopo un po' però tolgo l'iscrizione perché? perché se non guardo più i video non ha molto senso che io rimanga iscritta io sono iscritta ai canali che mi interessano da cui trovo spunto da cui trovo consigli Lucy Medici per esempio o Allegra 1952 Anna Rosa questi sono canali da cui io traggo spunto Giulia Cova Ornitorella Gaia anche benché lei sia di tanti anni più giovane di me però ha la pelle secca come me quindi traggo spunto canali divertenti che mi piacciono che mi rilassano per esempio il signor Franzo Marcella Scani io non mi iscrivo ai canali così ecco spero di essere stata chiara ora monterò tutte queste serie di video li monterò con l'iPad perché l'iPhone non ha il programma di montaggio quindi nel frattempo Blitz si ingozza non ha il programma di montaggio quindi dovrei scaricarlo e acquistarlo perché io non monto con i programmi gratuiti perché si bloccano perché mi fanno l'icona qua sotto che non mi piace io monto con programmi con perfect video che è un programma a pagamento lo paghi una volta sola mi sembra che è 8 euro 7 euro comunque lo paghi una volta sola però è un ottimo programma molto stabile mi permette di inserire frame video piccoli video foto insomma mi permette di fare una serie di cose però l'ho acquistato sull'iPad perché? perché l'iPhone che avevo prima il 6s non aveva abbastanza memoria siccome è un programma molto pesante ho preferito acquistarlo per l'iPad per cui mi passavo le clip girate con l'iPhone sull'iPad ed è la stessa cosa che faccio adesso bene vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao